Torna per la dodicesima edizione la Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana, organizzata da Scoop Travel, dall'Associazione Più Napoli, in collaborazione con MSC Crociere. La crociera si svolgerà dal 21 al 28 settembre 2019, a bordo della MSC Opera, completamente rinnovata, a seguito dell'intervento di restauro, che ne ha aumentato la capienza, il comfort, migliorando anche gli spazi destinati all'intrattenimento. La nave partirà da Bari per proseguire, poi alla volta di Cotor, Mykonos, Santorini, Corfu e Venezia. Alla presentazione tenutasi presso l'antisala dei Baroni del Maschio Angioino a Napoli, l'assessore alla Cultura e al Turismo del Comune, Nino Daniele, e l'autrice Marisa Laurito, madrina dell'evento. Che la nave cammini con questa cultura e con questa musica è importante perché ci permette di superare anche un po' questa barriera, questo gap dell'insensibilità e della scarsa conoscenza e ci fa quindi conoscere, come è giusto che sia, in altre città, in altri luoghi, in altri porti, in altri approdi. Io credo che Napoli sia sempre sulla cresta dell'onda, sia come città che come cultura, naturalmente a prescindere dalle cose brutte che si sentono, ma quelle si sentono ovunque, non solamente a Napoli. Quindi io sono sempre felice ed orgogliosa di essere nata a Napoli e la prossima vita voglio rinascere qua.